mamma mia questo proprio un tribuna montemario questo è tipo quando noi giriamo intorno all'albero non dovete prendere i birilli io mi hanno sentito è entrato l'orenzo piano piano l'orenzo piano piano adesso chi lo prende adesso chi lo prende esce poi da giro cercate di stare a debita distanza piano piano vuoi uscire un attimino per riprendere vai esce da qua vai fai un giro di piano dove è? è quello il grado di difficoltà tu devi essere pronto a tutto anche a quello che ti viene addosso piano 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 cammina cammina piano piano calma 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 calma